Attenzione, treno in transito ordinario 1, allontanarsi dalla linea gialla. Allacciatevi le cinture, si parte. Ci siamo, questa è l'ora di SmokeJets, un programma di Luciano Marrone. Allacciatevi le cinture, si parte. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A tutti riparte il ciclo settimanale di Smough Jets Café. Come sempre, Luciano Marrone alla console. Buon ascolto. Buon ascolto. All the souvenirs in my memory got me going down in stride. All the souvenirs in my memory got me ruining my soul. All the souvenirs in my memory got me going down in stride. All the souvenirs in my memory got me ruining my soul. But if you tell me what I should be offering. I may 20. All the souvenirs in my memory got me going down in stride. But if you tell me What I should be offering And maybe The sun is increasingly high All the souvenirs Ain't my memories Got me ruining my soul But if you tell me What I should be offering Ba ba bidey dong Ba ba bidey dong It'll eat That it don't you go Ba ba bidey dong Ba ba bidey dong Ba ba day 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 Yeah tutti i giorni su rcd small jazz caffè or baby let's get down tonight baby i can't hold it much longer it's getting stronger and stronger Grazie a tutti. Grazie a tutti.